un fallimento, una cosa scandalosa, una cosa vergognosa, una cosa mai vista poi il bursino della campagna elettorale di Agropoli mentre vanno fallendo quelli che sono i serdoconfronti tra i vari candidati una cosa che accade, una cosa stupida, vergognosa, fra l'altro organizzata anche da dubbi che non si sentono e non si vedono in città da anni ma probabilmente per andarsi a graziare per avere il terreno di fondo in questo manicomio succede una cosa da pazzo ci vedremo alle prossime perché ne avevo ancora tante da dire